All'interno delle storie cult ormai si sono ritagliati vari filoni e vari sottoinsiemi che ripropongono vecchie collane della Bonelli e forse quello più consistente, ma potrei sbagliarmi, comunque uno dei più consistenti è i protagonisti, cioè la collana di albi dedicati agli eroi del West che fu appannaggio esclusivo di Rino Albertarelli sia per quanto riguarda i testi che per quanto riguarda i disegni e che si estinse sostanzialmente con la morte dell'autore. Il mese scorso, anzi due mesi fa, era uscito quello che fu l'ultimo volume Herman Lehmann che venne concluso da Sergio Toppi e oggi invece, no oggi, in questi giorni esce un volume che io aspettavo da tempo, devo dire, per ragioni che adesso andrò a dirvi, e cioè Frank Kenton. Allora, prima di tutto i più attenti avranno visto che su questo canale era già stato recensito l'albo dedicato a Geronimo, io pur non avendone parlato sul canale ho letto anche quelli dedicati a Billy the Kid e Wyatt Earp. Qual è la cosa interessante di questi albi? È il lavoro certosino che Albertarelli fa sulle biografie dei personaggi storici presi in esame, dal punto di vista del disegno ne ripete la fisionomia senza più di tanto edulcorarla, perché, insomma, né Billy the Kid né Walt Billy, che erano delle bellezze, ecco, e nel volume dedicato a Wyatt Earp, per esempio, veniamo a sapere anche quanto di mistificatorio c'è nella sua storia, cioè Wyatt Earp che è rappresentato dalla quasi totalità dei film o delle opere letterarie come un eroe, in realtà era un fior di criminale e anche la famosa sfida del hockey corral di fatto fu un'aggressione ai fratelli Clinton, alla famiglia Clinton e anche in termini proprio di durata della sparatoria non fu più che un tafferuglio, ecco, non l'epico scontro che tanti film ci hanno raccontato, a cominciare per esempio da Sfida Infernale, che al di là della falsificazione, comunque della verità storica, resta uno dei capolavori della storia del cinema. Arriviamo a Frank Anton, ecco, Frank Anton è un personaggio che io aspettavo di conoscere perché la sua storia va a toccare quella di uno dei film che io amo di più in assoluto e con cui forse vi ho fatto anche due coglioni così, e cioè i cancelli del cielo di Cimino. Nei cancelli del cielo, dove si racconta la cosiddetta guerra di Johnson County, che altro non è che lo sterminio di alcuni proprietari terrieri da parte di una associazione di allevatori molto potente del Wyoming, ecco, lì Kenton viene rappresentato come un aristocratico, un appartenente alla classe dirigente americana e uno dei dirigenti anche dell'associazione degli allevatori. Nell'interpretazione riuscitissima di Sam Waterstone, che anche fisicamente somiglia al Frank Kenton della realtà storica, ecco qui un primo piano. In realtà Kenton non veniva da una famiglia ricca, ma anzi non si chiamava neanche Frank Kenton, il suo vero nome era Jo Horner, e inizia la strada che lo porterà poi a una popolarità come personaggio del West, anche se è una popolarità minore rispetto ai vari Wyatt Earp, Wild Billy Cook e Billy the Kid, che abbiamo poco fa citato, insomma, però la inizia come fuori legge. Poi, diciamo, nella vita fluida del West, dove era molto facile far perdere le proprie tracce, era molto facile cambiare identità, ecco che dopo aver corso rischi, pericoli di vario genere, preferisce votarsi alla causa della legge, ed è qui che Albertarelli aggancia il nostro personaggio. La causa della legge non è necessariamente la causa della giustizia, e nella parte centrale dell'albo abbiamo proprio la rievocazione del massacro di Johnson County, che non ha avuto, diciamo, le caratteristiche epiche, naturalmente, della pellicola di Cimino, perché si sa che l'arte e il cinema trasfigurano, ma una serie quasi di azioni di guerriglia che hanno colpito alcune persone, tra cui James Avril e Ella Watson, che sono poi i protagonisti del film di Cimino, interpretati da Chris Christofferson e Isabelle Huppert, che nella realtà storica vennero presi e linciati, e impiccati sommariamente. Ella Watson, che faceva la prostituta, aveva un soprannome, Cattle Kate, dovuto proprio alla sua disponibilità nel farsi pagare i suoi servizi con bestiame. Bestiame che veniva, diciamo, da lei marchiato, di fatto sul posto, ma in realtà era preso da Pascoli, che non erano ancora, diciamo così, di appartenenza certa. L'azione di questi allevatori molto ricchi e potenti è proprio quella di arrivare prima dei piccoli allevatori e rivendicare il possesso, appunto, anche di quegli animali che si nutrivano su terre, che ancora non avevano dei padroni certi. Se vogliamo abbiamo qui uno dei temi fondanti di tantissimo cinema western e io direi di veramente tantissime avventure di Tex. Il tema appunto del proprietario terriero dispotico, ricco, che fa strame dei piccoli proprietari e quindi è stato trattato anche, tutto sommato, di recente su Tex. Credo che l'ultimo Maxi poi vertesse su una storia molto simile, insomma, ma sono veramente tantissimi gli esempi che si potrebbero citare in questo senso. E di volta in volta il filo spinato, che diventa un vero e proprio correlativo oggettivo di questa tendenza, può essere utilizzato, appunto, viene visto come metodo di soprafazione quando viene utilizzato dall'allevatore ricco e potente e come giusto strumento di resistenza invece da parte del piccolo allevatore. Comunque, insomma, al di là dell'interesse che rivestiva per me la figura di Frank Anton e che mi ha anche portato a conoscere più da vicino quelli, grazie appunto alla narrazione fatta da Rino Albertarelli di quella che è stata la guerra di Johnson e poi la carriera da uomo di legge di Frank Anton è continuata anche in modo rocambolesco perché si sposterà in varie regioni, in vari stati dell'America, in Alaska per poi finire come arruolato nell'esercito con una carica che manco ricordo, come aiutante, comandante in capo della milizia fino alla sua morte avvenuta nel 1927, lui era nato nel 1849 quindi ebbe una vita lunga, insomma. Ecco, questo volume ha i pregi e i difetti che questa collana ha. Cioè, rispetto ad altre... Spesso si parla, insomma, di sperimentazione in Bonelli negli ultimi anni pensiamo soltanto al Dylan Dog Colorfest o a altre collane parallele però c'è da dire che in passato Sergio Bonelli non è stato meno incline alla sperimentazione in alcuni casi riportando, secondo me, un successo smagliante e penso alla straordinaria iniziativa editoriale che fu un uomo un'avventura dove appunto affidava storie a quelli che erano di fatto a quello che era il parterre più blasonato del fumetto italiano un discorso analogo forse lo si può fare anche per la storia del West seppure lì ci sono più i connotati della serie tradizionale per i protagonisti che ha appunto un autore unico al centro cioè Rino Albertarelli, comunque sicuramente grande artista, grande fumettista e che, l'ho già detto, con lui poi con la sua morte si estinguerà la serie a dire quanto fosse un progetto legato a questo autore ecco, lì entriamo in un campo un po' diverso perché dico questo? Personalmente in termini di lettura non posso dire che gli albi che ho letto siano risultati piacevoli non sono risultati piacevoli perché forse non vogliono neanche esserlo non c'è in questi albi diciamo così quel tipo di narrazione che prevede tutta una serie di accorgimenti unicipite di un certo tipo tutta una serie di turning point di colpi di scena che poi ci portano al finale assolutamente no il taglio che Albertarelli dà alle sue storie è un taglio documentaristico potremmo quasi parlare adesso facendo un paragone blasfemo ma lo faccio, chi se ne frega potremmo parlare del Rossellini televisivo cioè io penso dal capolavoro la presa di potere di Luigi XIV passando per le varie biografie di personaggi illustri che Rossellini ha fatto ecco, abbiamo un atteggiamento forse molto simile cioè quello di da un lato Rossellini che filmava con la macchina da presa le pagine di un libro di storia senza esprimere giudizio semplicemente mostrando ecco, Albertarelli fa una cosa molto simile rifuggendo se vogliamo da quelli che sono anche le diciamo così potremmo chiamarle proprio le occasioni di pathos perché per esempio nella storia di Canton c'è proprio all'interno dell'uccisione di Johnson County c'è l'uccisione di Nate Champion e Nick Ray due mandriani che vennero assediati nel loro ranch e stanati con il fuoco e poi uccisi questa cosa pesò a quanto pare sulla coscienza di Frank Anton che per molti anni soffrì di una nevrosi legato all'esecuzione di Nate Champion e a incubi nei quali questo uomo gli si presentavano continuamente alla proprio gli veniva a turbare il sonno diciamo tra l'altro questo è uno di quei di quelle scene che Cimino riporta abbastanza fedelmente nel suo film fatto salvo come abbiamo già detto i diversi le diverse collocazioni proprio professionali dei personaggi chiamati chiamati in scena e tra l'altro mi perdonerete anche questa io confesso questa cosa il personaggio di Nick Ray era interpretato da un giovanissimo Mickey Rourke e io pensavo che si chiamasse Nick Ray perché Cimino voleva fare una citazione a Nicholas Ray anche perché poi io avevo colto altre due diciamo criptocitazioni tratte da 55 giorni a Pechino nel film di Cimino e allora pensavo fosse un omaggio al regista Nicholas Ray e no ma non era così cioè questo qua si chiamava veramente Nick Ray no vabbè così la mia ossessione cinefina e quindi ecco il pregio i limiti di questa collana è un po' si identificano cioè da un lato c'è una accuratissima resa di quella che è stata la vita i tempi di un personaggio dall'altra la mancanza di suspense e pathos che un racconto d'avventura o western sembrano prometterci ma Rino Bertarelli probabilmente non aveva da questo punto di vista intenzione di prometterci nulla di più di quanto ci ha mostrato tanto vi dovevo vi auguro una buona giornata che